Qualcosa di inaspettato è accaduto quando questo bambino stava facendo una zipline con suo padre in Costa Rica. Stava scendendo velocissimo dopo che suo padre gli aveva detto di non usare il freno e tutto sembrava andare bene all'inizio, fino a quando è successo questo. Non sapevano cosa fare a questo punto e sicuramente non potevano buttare giù il bradipo.